La vita e le frasi più belle di Paolo Borsellino Iniziamo questo viaggio di ispirazione con Paolo Borsellino, un grande uomo che ha dedicato la sua vita alla giustizia e alla lotta contro la mafia. Il suo coraggio e il suo spirito indomabile hanno lasciato un segno indelebile nella nostra storia. L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa è una delle sue citazioni più famose. Borsellino ha insegnato che l'apatia e l'indifferenza possono causare più danni della violenza in sé. Non possiamo girare la testa dall'altra parte quando vediamo l'ingiustizia. Parlando del valore della vita, ha detto «Chi è nato per morire non nasce mai in vano». Queste parole ci fanno riflettere sulla mortalità, ma anche sul significato della vita e su come ogni vita abbia un valore e uno scopo unici. Borsellino ha detto anche «La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine». Queste parole ci ricordano che nessuna forza malvagia è invincibile e che la giustizia alla fine trionferà. si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone di alleanze, perché si è privi di una rete di protezione. Questa è una lezione preziosa sulla solidarietà e l'importanza delle relazioni umane. Borsellino ci ha anche fatto riflettere sul coraggio con le sue parole. Il coraggio non si compra al mercato, si ha o non si ha. Ci ricorda che il coraggio è una caratteristica innata, non qualcosa che possiamo acquisire facilmente. La legalità non è una questione di punti di vista, di interpretazioni, è una questione di rispetto delle regole. Borsellino ha insegnato che la legalità non è opinabile, ma è un principio fondamentale per una società giusta. Uno dei suoi messaggi più forti è stato non si può vivere nel sospetto, si può vivere nella lotta. Ci esorta a non vivere nella paura o nel sospetto, ma a combattere per ciò in cui crediamo. La paura passa, la dignità resta. Queste parole di Borsellino ci ricordano che possiamo superare le nostre paure e che la nostra dignità è qualcosa che nessuno può toglierci. Concludiamo con le parole di Borsellino sulla speranza. La speranza è una cosa con le piume che si posa sull'anima. Questo ricorda a tutti noi che la speranza è sempre presente, anche nei momenti più bui. Ricordiamoci sempre di Paolo Borsellino, un uomo che ha vissuto con coraggio e determinazione, un vero eroe. Il suo spirito vive in ognuno di noi che lotta per la giustizia, la legalità e la speranza.